Filosofia e storia sono due discipline che più delle altre, probabilmente, invitano al ragionamento, alla comprensione critica e spingono gli alunni ad adottare quella capacità critica che è fondamentale affinché si possa comprendere il presente attraverso il passato. La filosofia, da questo punto di vista, è una disciplina che sempre più ha avuto questa caratteristica e ha questa caratteristica e la storia, proprio perché la storia vuol dire il passato, la memoria, la comprensione delle nostre radici, deve essere strettamente legata al presente affinché si capisca il presente come il frutto e il prodotto del passato. Quindi un corso su queste due materie è un corso che deve cercare, che cercherà, di stabilire un legame fecondo, proficuo, tra i contenuti e la didattica, tra il sapere e il affinché appunto ognuno sappia poi applicare concretamente e attuare ciò che è scritto nei programmi di queste discipline e appunto ognuno sappia che non c'è nessuna contrapposizione, non c'è nessuna alternativa tra questi due aspetti che sono quelli appunto della didattica e dei contenuti che vanno tenuti insieme affinché si raggiunga il miglior risultato possibile.